E' martedì 15 settembre, buongiorno e bentrovati con il nostro primo appuntamento con l'informazione questa mattina in regia Marco Presutti. La pagina politica in copertina è la crisi che si sta sviluppando al comune di Isernia a tenere banco accuse nel Partito Democratico all'indomani della caduta di Luigi Brasiello. Nel partito c'è un'area da tutti contro tutti, ma i più individuano in Michela Fanelli e in Paolo Di Laura Frattura i responsabili del crack Isernino. Ma ascoltiamo il commento di Giovanni Minicozzi. Una lotta intestina, quella in atto nel PD, che non ha precedenti nella storia politica di questa regione. In poco più di due anni il partito di Paolo Frattura e di Michela Fanelli è riuscito a dissipare il notevole patrimonio elettorale che aveva conquistato con false promesse e finti cambiamenti nell'azione amministrativa del governo regionale. In realtà in due anni la maggioranza di Palazzo Moffa su input di Paolo Frattura ha prodotto solo macerie per l'economia molisana e per la sanità, mantenendo e anzi aumentando tutti i privilegi della casta. Al di là delle riunioni carbonare per far saltare Brasiello, peraltro Fratturiano Doc, alle quali avrebbe partecipato anche Michela Fanelli, secondo quanto dichiarato dall'ex segretario Danilo Leva, nella resa dei conti nel PD c'è di più, molto di più, ed è sbagliato relegarla a questione prettamente localistica. Dietro gli stracci che volano si nasconde il peccato originale delle primarie atipiche che elessero la Fanelli al vertice del partito con i voti di Realze di Molise, dell'Italia dei Valori e dei comunisti italiani. Si nasconde l'appiattimento totale della segretaria regionale sulle posizioni del presidente Frattura e sul suo malgoverno. Si nascondono il silenzio sui malaffari e gli intrecci tra politiche e affari che troppo spesso hanno avuto per protagonisti sia il governatore nel suo doppio ruolo di presidente e di impreditore, sia la stessa Michela Fanelli, come dimostra la vicenda della transazione per il suo incarico nel nucleo di valutazione che peraltro si voleva occultare ai cittadini. Dunque la vicenda Brasiello travalica il convine territoriale e chiama in causa le responsabilità dell'intera coalizione di centrosinistra a tutti i livelli istituzionali, un centrosinistra snaturato nei suoi valori e nei suoi ideali da strani personaggi che ricoprono ruoli di primo piano e che con quei valori nulla hanno da spartire. La crisi politica del centrosinistra di Isernia avrà pesanti ricadute in ambito regionale e il primo effetto lo verificheremo nell'assemblea del PD, paralizzata da oltre un anno per evitare il confronto dove Michela Fanelli, anziché pensare al suo posto in giunta e a festeggiare con i paesani di Riccia, farebbe bene a presentarsi di missionaria, assumendosi tutte le responsabilità che le competono e liberando un partito che può dare maggiore impulso per risolvere il dramma dei molisani. La richiesta l'ha spedita a mezzo stampa l'onorevole Danilo Leva. Dimettiti perché sei inadeguata, ha detto senza peli sulla lingua il parlamentare del PD. E restiamo ancora a Isernia dove si discute già dei futuri assetti di alleanze politiche e di nomi di possibili candidati alla poltrona che fu di Luigi Brasiello. In questo servizio Enzo Di Gaetano ci racconta tutte le indiscrezioni. Ancora non si smorzano le polemiche per la caduta di Luigi Brasiello tradito dai consiglieri del PD che fanno capo a Fratturo e Fanelli che già la sinistra si interroga insieme a centrodestra e grillini su chi possa ereditare lo sfascello dell'amministrazione comunale di Isernia. Chi può essere un candidato sindaco talmente autorevole e distante dai giochi di palazzo e dai giochi della regione che potrà garantire un futuro ad una città ferita e messa in ginocchio dal terzo commissariamento in quattro anni? Un record nazionale per un capologo di provincia. Intanto a Palazzo San Francesco e in via Berta si leccano le ferite. Per quel che riguarda la provincia l'eredità di Brasiello verrà raccolta da Cristofaro Carrino che resterà al vertice fino all'elezione del nuovo sindaco di Isernia. Per il comune invece l'attesa è tutta per il nome del commissario che verrà nominato da Roma. Intanto però è già partita la caccia al futuro candidato sindaco per tutti gli schieramenti e tutti i partiti. Nel centro-sinistra i nomi più gettonati ed autorevoli sono attualmente quelli di Giuseppe Laurelli, Carlo Veneziale, Cosmo Tedeschi, il giovane Renziano Ovidio Bontempo o Lucio Pastore. Ma quest'ultimo solo in qualità di candidato sindaco di uno schieramento civico che si richiami all'esperienza del ponte. L'ipotesi Lucio Pastore viene sponsorizzata in particolare dal Comitato in Difesa del Veneziale e dal portavoce di possibile il civatiano Alberto Gentile. Passando per il centro i nomi che più si fanno sono quelli di Mimmo Pizzi, coordinatore provinciale dell'Udc e Cosmo Galasso in rappresentanza del partito centrista di Vincenzo Niro, presidente del Consiglio. Nel centro-destra i nomi sono decisamente di più perché si sente odore di vittoria e fioccano così le indiscrezioni. Si va dalla riproposizione di Giacomo D'Apollonio al nome di Gianni Fantozzi, veterano della classe politica esernina. Ci sono poi Giovan Carmine Lancini, l'ex sindaco Gabriele Melogli o addirittura i veterani Michele Iorio e Enrico Santoro. Insomma c'è da scegliere, ma se i nomi sono tanti l'esigenza è quella di trovare una persona autorevole che difenda gli interessi di Isernia di fronte allo strapotere di frattura che almeno un appellativo unanime nel capoluogo Pentro se l'è guadagnato in tutti e due gli schieramenti, quello di essere il nemico giurato di Isernia e dei politici isernini. E per finire i grillini anche loro promettono sorprese, in particolare un nome nuovo. E torna oggi a riunirsi il Consiglio regionale del Molise con 33 argomenti all'ordine del giorno. Tra i punti all'esame dell'Assemblea l'ordine del giorno del consigliere Francesco Totaro sulla sospensione dei ricoveri nel reparto di chirurgia dell'ospedale Vietri. Di Larino inoltre la mozione di alcuni consiglieri del centrodestra che impegna il Presidente Frattura a promuovere iniziative utili in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa tra l'altro il numero minimo di posti letto delle strutture ospedaliere. Tra le proposte di legge quella che riguarda la riforma dei consorsi per lo sviluppo produttivo. Bene, tutto per l'informazione. Passiamo adesso alla rassegna stampa. Apriamo come di consueto con il giornale del Molise che questa mattina propone un approfondimento sulla crisi che sta lacerando il Partito Democratico. Una situazione davvero surreale. Riaprono i manicomi. Questo il titolo. Il PD Molise. Un partito sul nido del cuculo. Il titolo si riferisce chiaramente al famoso film di Milos Forman. Andiamo a vedere adesso invece le notizie in evidenza. Migrante ricoverato al Cardarelli con una meningocefalite. Zuccherificio. 48 ore di tempo per decidere sulla campagna. Intanto essiccatoio KO per il furto di rame. Isernia. L'impegno del ministro dell'istruzione Giannini. Faremo delle aree interne un punto di rilancio. Non di fuga. Caduta di Brasiello. Danilo Leva accusa la Fanelli di aver organizzato il complotto. Occhio ai bambini. Parte da Termoli. il controllo della vista nelle scuole. Dai Sernia. Reati contro la persona e il patrimonio quarantenne arrestato dai carabinieri. E andiamo adesso a vedere il resto della stampa locale. Questa mattina non sono pervenuti. Primo piano Molise. La gazzetta del Molise. Per cui diamo un'occhiata solo al quotidiano del Molise. Questo è il titolo di apertura. Il ministro agli studenti. La buona scuola siete voi. Stefania Giannini. Lo spirito molisano possa pervadere il paese. Dai Sernia la visita del ministro della scuola conclusasi poi a Carovilli dove ha presentato il nuovo progetto per le aree interne. In taglio alto la cronaca. Un'altra morte nei campi e la causa è sempre un trattore. È accaduto a Civitanova del Sannio. La vittima aveva 80 anni. Torniamo a centropagina da Campobasso. Fermata Frecciarossa. Il diktat della provincia. L'ordine del giorno del consigliere provinciale a Ufiero votato all'unanimità. Cronaca. Isernino nel Bronx statunitense sbranato da due pitbull. Da Isernia crisi in comune. Ecco da cosa è stata scatenata. Le reazioni chiaramente alla visita del ministro Giannini. La CGL all'attacco. La propaganda è inutile. Abbiamo bisogno di fatti. Dicono dal sindacato. Ancora da Isernia. Ladri confusi fra i pazienti derubano il personale dell'ospedale. Le notizie sportive. Serie D. Sciamanna lascia i lupi. Sale l'attesa per il big match con la Samb. Serie D. Agnone serve una sterzata. L'Isernia dimostra carattere. Eccellenza. Catalano. Nuo mister del Termoli. Orgoglioso della chiamata. E andiamo adesso a vedere futuro Molise. Per l'attualità la Will Molise batte i pugni anche sulla Previdenza. Oggi a Roma sotto il Ministero dell'Economia anche esponenti del sindacato molisano. Per la politica Movimento 5 Stelle così benesima beffa ai danni dei cittadini. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno sembra ormai diventato un banco matte. Vediamo poi in taglio alto cosa propone il futuro Molise. Il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini a Isernia. Intervista Fiume sulla buona scuola. Molise territorio o Molise regione? La scelta pare obbligata per volontà del governo e per permettere la naturale sopravvivenza dei suoi abitanti. Dall'Expo cancellato il concerto del tratturo negati al gruppo bandiera della cultura etnica musicale molisana le minime garanzie tecniche e finanziarie. Passiamo adesso alla stampa nazionale che questa mattina ha delle aperture pressoché unanimi sulla questione migranti. Partiamo con il Corriere della Sera. Torna l'Europa delle frontiere. Controlli in Austria, Olanda e Slovacchia. Il Viminale allerta la polizia ai confini e emergenza. Anche la Francia minaccia di sospendere Schengen in Egitto. Strage di turisti per errore. In taglio alto vediamo una foto notizia che dà conto dell'alluvione in Emilia. La terra fragile dell'Emilia finita sott'acqua. Per i nubi fragili un morto e due dispersi. A centro pagina si parla di politiche di economia. La manovra sale a 27 miliardi. Renzi promette giù il debito. Vediamo l'apertura che fa Repubblica. L'Unione Europea. Militari contro gli scafisti. Ma Bruxelles litiga sulle quote. Vertice senza accordo. Parigi più controlli con l'Italia. Salvini. Troppi stranieri in classe. Di spalla la svolta del Papa. Giusta limo quando i conventi diventano hotel. Una nuova presa di posizione di Papa Francesco. vediamo poi anche qui a centro pagina una foto notizia che dà conto dei disastri provocati dai nubi fragili. Inferno al nord per tre ore. Di pioggia. Crolli e frane a Piacenza e in Liguria. un morto e due dispersi. E da Repubblica andiamo a vedere l'apertura della stampa Il Quotidiano di Torino. Migranti effetto domino sull'Unione Europea. Schengen vacilla. Dopo la Germania mezza Europa ripristina i controlli alle frontiere. Niente intesa sulle quote. Fallito il vertice di Bruxelles. A centro pagina la fotonotizia parla di scuola. Il 70 per cento dei precari congela la cattedra. Restano supplenti per un anno nella speranza di un ruolo vicino casa. Andiamo a centro pagina. Renzi. Rivediamo il PIL al rialzo. Poi annuncia Digital Tax nel 2017. Mal tempo. Un morto padre e figlio dispersi. Frane, ponti crollati e danni nel Piacentino. Dalla stampa andiamo al quotidiano della capitale Il Tempo. L'Isis spaventa pure il Papa. Può arrivare fino a Roma. Questa l'apertura. Il pontefice preoccupato della sicurezza del nostro paese. Jihadisti. A 400 chilometri da noi c'è il rischio di infiltrazioni. Fotonotizia a centro pagina. Si parla di Black Block a processo. Il Black Block falso eroe. Non difendeva la sua ragazza. Dice il Tempo. Incastrato dalle foto. Di spalla. Renzi dai numeri in tv. Meno debito. Più PIL. E annuncia la Digital Tax. Andiamo al quotidiano dei Vescovi. L'avvenire. Profughi. L'Unione Europea. Timida. Salta l'accordo su quote allargate. E più controlli. Bagnasco. Accoglienza. Servono risposte incisive al vertice europeo. Intesa per 40.000 ricollocati. 24.000 dall'Italia. Ma l'Est si oppone al meccanismo obbligatorio. Misure contro gli scafisti a centro pagina per la politica. Renzi manovra da 27 miliardi e dà il via alla Digital Tax. Il Fatto Quotidiano che apre sulla sprecopoli del governo Renzi. Dopo il Superjet, le auto blu costeranno 26 milioni. In più casta. Bando di gara. Consip da 106 milioni per il noleggio di 6.000 nuove vetture. In taglio alto anche il Fatto Quotidiano parla di Papa Francesco. Il Papa dalla sveglia al governo. Gli hotel cattolici paghino le tasse. Scatenato. Francesco scavalca i partiti sulle imposte per gli enti religiosi commerciali. E dal Fatto Quotidiano apriamo adesso i quotidiani di centro-destra. Il giornale. L'Europa chiude le frontiere e l'Italia è in balia degli immigrati. Governo allo sbando. Germania, Austria, Olanda e Slovacchia ripristinano i controlli ai confini. La Francia ci sta pensando. Solo Roma non fa nulla. E anche il Papa ammette rischio infiltrazioni terroristiche tra i migranti. E a centro pagina vediamo una fotonotizia di Beppe Grillo. Giustizialismo boomerang. Un'altra condanna. Adesso Grillo rischia davvero di finire in carcere. E dal giornale. Passiamo a vedere la prima pagina di Libero. L'Europa rifila all'Italia sei campi profughi. Questa è l'apertura. Questo dopo il voltafaccia della Merkel. La lotta agli scafisti è solo bla bla, dicono da Libero. L'obbligo di istituire centri di accoglienza in cui identificare chi sbarca. È invece una realtà che ci porterà presto a rimpiangere perfino il cara di Mineo. A centro pagina la vignetta di Benni ci mostra un Renzi vestito da scolaretto. Nella scritta sulla lavagna cercasi supplenti. La scuola di Renzi riparte con migliaia di buchi. Mancano insegnanti e anche bidelli. Vediamo la prima del secolo d'Italia. Lo storico quotidiano della destra. Convocata l'assemblea della fondazione di alleanza nazionale e il secolo da tutte le informazioni. Utili tra le notizie invece in primo piano. Primo giorno di scuola un sindaco regala tricolori e nastri dei Marò. Decisamente una bella iniziativa. Andiamo al mattino di Napoli che apre sull'economia. Padoan più investimenti al sud. Il piano del governo. Sgravie e bonus. Occupati. Renzi il PIL al rialzo. Debito. Giù meno tasse e contributi per le imprese. Nel mezzogiorno il premier. Dopo due mandati io lascio. Vediamo poi una fotonotizia. Il caso dei Marò. Il giallo dei Marò, dice il mattino, è la pista dei proiettili che porta alla marina dello Sri Lanka. In taglio alto la cronaca uccide la ex, fugge e minaccia i parenti. Andiamo adesso a vedere l'informazione sportiva con la Gazzetta dello Sport che stamattina parla dell'Inter. Questo il titolo che Grinter con Melo e Company ora può puntare allo scudetto. Poi di spalla si parla di Champions League. Questa sera alle 20.45 l'Euro Juve affronta il Super City dalla Juve. Dicono ripartiamo. Bene e con la Gazzetta dello Sport si chiude la nostra rassegna stampa. Il nostro appuntamento è alle ore 14 con il telegiornale di Telemolise. A voi tutti l'augurio di una serena giornata. Grazie a tutti.